Ciao ragazze, la ricerca di un look versatile è il cuccio di ogni donna. Quante volte vi siete svegliate la mattina alla ricerca del look perfetto per tutto il giorno e per un aperitivo con le amiche? Provate con quest look! Il tema pigiama resiste anche questa stagione. Noi abbiamo scelto la camicia stampa cravatta in preziosita applicazione di cristalli, perfetta con un semplice jeans, il classico cappotto lungo doppio petto blu e un mocassino. La blusa romantica e il jeans cropped e lo spolverino over, perfetta la bevea in velluto. Il cappotto cammello, abbinato ad un abito midi, bonton da sapore vintage e dei polacchini versatili in vernice. Ciao ragazze, al prossimo tutorial! Ciao!